Allora, è finita la partita di Fiorentino Benevento e vi posso garantire che non avrei mai e poi mai e poi mai immaginato di fare un post-video dove mi incazzo e mi incazzerò tanto. Benevento ha vinto contro la Fiorentina 1-0, meritatamente. Lo voglio sottolineare perché questa viola che ho visto oggi è oscena, è ancora peggio della Fiorentina che vedevano Iachini. Cioè, beh, ce ne voleva tanto, eh, per peggiorare. Oggi zero, zero, salvo solo Dragoschi, per il resto tutti a casa, tutti a fare un esamino di coscienza, andate a zappare nei campi, andate a zappare nei campi, perché è quello che vi meritate di andare a zappare nei campi. Non che zappare nei campi non sia un lavoro onesto, eh, sia chiaro, anzi è molto dignitoso, forse molto più dignitoso di quello che fate voi in campo mentre giocate a pallone, perché voi fate schifo, schifo. Io non ho mai visto una squadra che non ha neanche minimamente idea di come giocare a pallone, ma voi vi rendete conto? Lasciavate il pallone in mezzo a tre giocatori da Fiorentina, lo prendi te? Lo pigli te? Io lo piglio e poi lo prendiamo con gli altri. Ma come si fa? Poi, scusatemi, eh, ora, io pubblicamente le scuse a Iachini, forse sotto sotto Iachini e tutte ste torti non ce l'aveva, e tutti sti torti non ce l'aveva, e forse qualche cosina avrà detto anche a Pradega e dire guarda che questa squadra l'è incompleta, sotto sotto, e a Prandelli dico una cosa, Prandelli, io, io ti rispetto come uomo, ma oggi ti ha messo in campo una squadra che, cioè, faceva ridere, ridere, ma te mi devi spiegare Igor, Igor perché Igor e non li rola, mi devi spiegare perché non hai messo Pulgar, cioè, non lo so, non lo so, poi continuiamo con Vlaovic, continuiamo con Vlaovic, vogliamo seguitare con Vlaovic, eh, seguitiamo, seguitiamo con Vlaovic. Io ero, ero tranquillo in settimana, mi sembra Cutrone sia più in vantaggio, giocheremo, ci mancherebbe altro, Kayekon, per l'amor di Dio, non era recuperabile, ce lo capisco, qua me, per l'amor, cioè qua me ragazzi, per me a gennaio, qua me va fuori dai coglioni subito, eh, ma subito, ma subito, a gennaio, bambini, se si arriva in una posizione tranquilla della serie, che a gennaio siamo ultimi in classifica, se si continua in questa maniera siamo ultimi in classifica, io faccio un applauso al Benevento di Nzaghi, eh, ha fatto una signora partita, eh, una signora partita con un terzo dell'ingaggio che c'è alla Fiorentina, io faccio un applauso al Benevento, eh, si fa schifo, si fa ridere, si fa piangere, è roba da chiodi, ma è una roba vergognosa, io andavo, ma mai, ma mai, ma mai pensato a una partita di genere, mai pensato a una partita di genere, e se tu la pereggiavi, tu la rubavi anche, e quindi è stato bene aver perso, ora Prandelli, io non lo so cosa dirà in conferenza stampa, non lo voglio nemmeno sentire, vi dico la verità, io non voglio nemmeno sentire, io voglio soltanto il comisso, la prossima volta che qualcuno dice ha comisso, ma signora ha comisso, invece di rispondere picche, dica, mettiamoci a sedere e parliamone, perché vi dico io che non si è retrocessi l'anno scorso, ma quest'anno siamo sulla buona strada, è un punto a partita media da retrocessione, è una media matematica questa, adesso voglio vedere mercoledì c'è la Coppa Italia con l'Udinese, e poi si va col Milan, se ne piglia 10 in queste due partite, ma si fa ridere, vi dovete vergognare, tutti voi della dirigenza della Frentina, vi dovete vergognare, vergognare, dovete vergognarvi, dico solo questo, dico solo, poi non dico altro, tanto la partita si documenta da solo, il risultato si documenta da solo, vi dovete vergognare, punto e basta, non dico altro, ragazzi, io oggi proprio niente, zero, nisba, nada, non ho parole, mi viene solo da prendere e spaccare qualcosa contro il muro, perché è una cosa vergognosa, poi non dico altro, io non so cosa, in due settimane, come si sia potuto peggiorare la squadra rispetto a quella di Iachini, io me lo domando e dico, perché poi uno ha altre domande, e fra due o tre mesi si dovrebbe chiedere noi che rimanesse Prandelli? Se si va avanti questo passo, io un penso proprio, un credo proprio, ci sa una serie di partite, ora per un mese ci sa otto partite in un mese, ditemi voi che figura di merda si fa, punto. Iscrivetevi al mio canale, lasciate un bel commento e andate naturalmente su tutti i miei social, seguitemi e vi lascio il link in descrizione per i miei due shop online Mr. Viola su T-Spring e T-Spring, visitateli, i link sono qua sotto, usate anche il codice promozionale su T-Spring. Ragazzi, come sempre, una bella domenica di merda, ciao!